Musica 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 E questa pista la ritroveremo Facciamo un mi piace Ciao a tutti Ciao ragazzi Siamo a Vicenza Kart per l'evento Take Your Time Parte 2 Evento del 25 agosto Inaugurale dove ci sono tanti ospiti speciali Federica Masoline Valsecchi E anche un DJ Veneto No, un Veneto che non conosciamo Lo scopriremo dopo Poi vedremo Esatto E questo qui è un evento speciale Soprattutto anche per me Sperando di riuscire a fare un giro in pista Così mi faccio un'idea della pista Perché questa pista sarà nel campionato Di Open Karting Rental Series Ah mi pare a gennaio Adesso non sbaglio, ok? Sarà il secondo indoor che troveremo nel campionato Questo è tra i migliori indoor d'Italia E' anche uno tra i più famosi E quindi sarà fighissimo Perché c'è anche tipo una spirale che va su Quindi metà dentro, metà fuori Si corre con i sudi Esatto, quindi Adesso aspettiamo di entrare Poi guardiamoci la giornata Vediamo perché è mezzogiorno e mezzo circa adesso C'ho una fame da matti C'è già la gente che si sta cercando lì Ma io ho fame, come faccio? Vado lì o vado a mangiare? Stiamo in coda, altrimenti non corriamo sicuro Nicola, Vallieri Quindi Verona Duelle Tutti di corsa per partire per la seconda Manche Abbiamo tutto pronto Corre anche Dario L'Uncri Tutti quanti Carlacciotto E Maurizio E Maurizio Sparte Guardate che figato Vabbè che adesso è tutto retardo Vabbè che adesso è l'ultimo Vabbieri Vabbieri Ultimo, grazie L'ultimo Wow Vabbè che figata Wow Vabbè che figata Come Greetings Grazie a tutti. 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 Yeah, Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.